Prenderà il via domenica 7 luglio a Campobasso la rassegna concertistica musica in Villa. Anche in questa seconda edizione, teatro dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Amici della Musica, l'incantevole location di Villa de Capua. Un modo per portare la musica di qualità all'aperto e di avvicinare anche coloro che di solito non frequentano i teatri o le sale da concerto. Ha sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione il direttore artistico Andreina di Girolamo. Assolutamente sì, noi crediamo in questa opportunità, cioè la musica non deve essere solo nelle sale da concerto, bisogna portarla fuori. Villa de Capua è fantastica, bellissima e per tutta l'estate, o meglio per tutte le domeniche di luglio o più una di agosto, ci sembrerà di essere un po' a Vienna. A Vienna succede tranquillamente che si va in giro nei parchi e si ascolta la musica, non solo Vienna naturalmente. Sì, l'anno scorso è stata una bellissima esperienza, la riproponiamo quest'anno e siamo convinti che andrà altrettanto bene, sia per la presenza di pubblico che naturalmente per il valore dei musicisti che abbiamo invitato. Tutti i giovani interpreti, molti di loro già professionisti in carriera, molti altri, anzi la maggior parte, che si stanno formando presso il nostro conservatorio, a cui noi diamo l'opportunità di esibirsi e di donare la propria arte a chi vorrà venire ad ascoltare. Niente paura per il caldo, perché saremo in un posto freschissimo sotto i peni e quindi sarà tutto bello. Vi invito a partecipare numerosi. Questi cinque appuntamenti in calendario, come detto in successione, dalla prossima fino alla domenica del 4 di agosto. Si inizia con il Nicola Serafini Trio, il secondo concerto affidato al Trio Ventum, a seguire spazio al Wakanda Quartet. Domenica 28 luglio sarà la volta delle arpe di Sara Aiello e Anna Paola Fabrocino. L'appuntamento conclusivo vedrà protagoniste le fisarmoniche di Franco Di Palma e Diego Di Rienzo.